La linea di condotta adottata dal Movimento 5 Stelle, in particolar modo dal leader del Movimento 5 Stelle, credo che sia la linea politica più coerente di quest'ultimo ventennio. Va ovviamente capita e va fatta un attimo d'analisi, ma soprattutto di chiarezza, di limpidezza, cosa che i sistemi mediatici non fanno, perché sappiamo bene chi è il padrone dell'informazione mediatica, quindi è inutile starci a fare le pulci. Perché dico questo? Perché il Movimento 5 Stelle ha garantito un principio fondamentale, la sovranità del Parlamento, la ripresa della sovranità del Parlamento e la partecipazione diretta dei cittadini. Se andasse quindi a istituire in qualche modo un accordo partitico, verrebbe meno a questo principio. Perché il Movimento 5 Stelle non vuole esistere come partito, non ha ragione di esistere come partito, ma come movimento popolare atto a portare, riportare la democrazia e la partecipazione diretta dei cittadini in Parlamento. E dal momento in cui un Parlamento comunque esiste e potrebbe essere sovrano, sarebbe utile non perdere tempo in discussioni e in cinciaglierie basate sull'assegnazione delle poltrone, ma piuttosto in risoluzioni, in atti risolutivi di cui il Paese necessita urgentemente. E quali potrebbero essere gli atti risolutivi? Gli atti risolutivi sono proposti chiaramente nel programma del Movimento 5 Stelle. E proprio sulla base di questo programma, se si cominciassero ad attuare atti risolutivi, ovviamente il Movimento 5 Stelle si è sempre dichiarato o ben disposto a votarli. Diversamente, ovviamente, no. E questo è un atto di estrema coerenza, mal diffuso dall'informazione mediatica, che come al solito strumentalizza a proprio piacimento qualsiasi evento, qualsiasi notizia, qualsiasi forma di rinnovamento se ne va a suo discapito. Ormai ne siamo perfettamente abituati, no? L'innovatore, se è a discapito del sistema mediatico, dell'attuale sistema di regime, viene immediatamente, se non subito cestinato perché si è impossibilitati a farlo, ma castigato, messo agli estremi. O comunque viene fatto passare come persona che nuoce, in questo caso come movimento che nuoce. Però vedete come la mediaticità concentra tutto sulla segnazione delle poltrone e non su come il Parlamento potrebbe essere sovrano? questo dovrebbe far riflettere. Dovrebbe far riflettere anche coloro che hanno votato il Movimento 5 Stelle non per convinzione, ma per protesta. Perché credo che coloro che abbiano votato il Movimento 5 Stelle per convinzione non abbiano difficoltà a capire questa concezione. mentre coloro che hanno votato il Movimento 5 Stelle solo per protesta e non per convinzione e quindi non perfettamente entrati, integrati nell'ottica di un movimento popolare, non perfettamente consci che il Movimento 5 Stelle non ha ragione di esistere come partito, ma bensì come movimento popolare, come movimento riformatore, come forza rinnovatrice del sistema, ecco, forse per queste persone che non hanno ben compreso tutto ciò, è difficile riuscire a accettare questo. E allora occorre per questo tipo di persone ad entrarsi in una riflessione direi un pochino più complessa e un pochino più personale. Io credo che queste persone debbano porsi necessariamente questa domanda. Voglio cambiarlo il sistema o non voglio cambiarlo? Se no, allora, vabbè, tornino a votare coloro che hanno sempre votato. Ma se sì, allora qui si aprono una serie di altri interrogativi. C'è sì come lo voglio cambiare, ma soprattutto con chi? E ancora, chi mi propone idee innovative per cambiare il sistema? E ancora chi mi rende partecipe? o meglio, vuole, esige la mia partecipazione? Qual è la forza che in questo momento esige la mia partecipazione? Mi chiede di essere io, cittadino partecipe, io cittadino protagonista. Qual è questa forza? La risposta viene da sé. Non serve che ve la dia io, ma serve che ve la diate di voi, affinché non sia una risposta mia di parte, ma una risposta vostra di convinzione. Perché questo è importante. deve essere una risposta vostra di convinzione, non mia di parte. Allora c'è una forza che mi garantisce tutto questo, che garantisce, che chiede, che esige la mia partecipazione? Ce n'è più di una. Io ne vedo una sola. Se voi ne vedete più di una, individuatela e dimostratemela. Io la mia ve la sto dimostrando. Anche se non ve la sto dicendo perché voglio che ci arriviate per convinzione e non per partito preso. E non perché questo vuole far propaganda al Movimento 5 Stelle. Sì, io la voglio fare, ma non voglio portarvi ad arrivare per partito preso, ma voglio portarvi ad arrivare per convinzione, per un'analisi di fatto, perché i dati sono oggettivi, sono qui da vedere, ma da vedere con l'occhio limpido, non sicuramente con l'occhio torbido e sporco dell'informazione mediatica, di ciò che passano i giornali, di ciò che passano le tv, di ciò che passa sostanzialmente tutta l'informazione di regime. E allora se vogliamo portare avanti il nostro pensiero libero, la nostra partecipazione, il tentativo di riconquista della sovranità popolare, non ci resta altro da fare se non l'affidarsi alla linea coraggiosa e coerente del leader del Movimento 5 Stelle e aiutare il Movimento 5 Stelle a sostenerlo nel proseguire questa linea. E essendo un movimento popolare ha l'assoluto bisogno del nostro sostegno, scusate, anche perché spiegatemi come fa ad esistere un movimento popolare senza il sostegno del popolo. È impossibile, è letteralmente impossibile. E possiamo anche tranquillamente fare e condividere questo tipo, quest'altro tipo di analisi. Il Movimento 5 Stelle ha avuto il boom perché c'è stata la partecipazione del popolo, se no non avrebbe avuto. Contrariamente agli altri partiti che pur non avendo la netta partecipazione popolare riescono a mantenere le loro poltrone per una serie di motivi. In primis per una legge elettorale chiamata Porcellum che mantiene a loro questi privilegi. E guarda caso la riforma elettorale, così come il finanziamento pubblico ai partiti, per alcune forze politiche non viene nemmeno menzionato da loro stessi. Proprio perché dà fastidio, proprio perché non vogliono discutere sulle riforme, vogliono discutere sull'assegnazione delle poltrone per cercare di mantenere intatti i loro privilegi. Va fatta una valutazione di coscienza, di informazione, ma soprattutto una valutazione personale. Occorre per poter fare coerentemente questa valutazione personale abbandonare gli strumenti mediatici e munirsi della propria intelligenza, delle proprie capacità intellettivi di un'informazione alternativa per poter operare coraggiosamente, intelligentemente, e coerentemente. Diversamente si rischia di rimanere intrappolati nel baratro del sistema e di non riuscire ad uscirne. Io credo che sia importante fare questa riflessione in modo sereno, credo che sia importante non lasciarci intrappolare e soprattutto non demolire questo inizio che abbiamo costruito a livello popolare, questo grande sogno che stiamo cercando di realizzare, che è l'idea del Movimento 5 Stelle. Ma attenzione, questo grande sogno non è tanto nel Movimento 5 Stelle simbolico, ma quanto nel Movimento 5 Stelle che aiuta a riprenderci la nostra sovranità. Ci sta aiutando e se vogliamo sostenerlo riconquisteremo la nostra sovranità. Viceversa la riperderemo, torneremo a dimenticarci cosa vuol dire essere popolo sovrano, cosa vuol dire essere parte decisiva, cosa vuol dire democrazia, cosa vuol dire partecipazione. Se non vogliamo dimenticare tutte queste belle cose che stiamo tornando ad acquisire, di cui cominciamo a risentirne parlare grazie a un solo Movimento, non possiamo sostenere ciò che noi stessi abbiamo creato, un Movimento popolare, il Movimento 5 Stelle. Ha un leader che ne ha creato le basi, ne ha creato i presupposti, ma è un Movimento che senza di noi, senza la nostra volontà, senza la nostra partecipazione non può vivere. E allora se non vogliamo tornare a suicidarci, ma vogliamo risorgere, visto che è appena passata la Pasqua, festa di risurrezione, sono appena passate le elezioni che hanno visto il Movimento 5 Stelle come risurrezione popolare, se non vogliamo spezzare questo inizio di risurrezione, avanti tutta fiducia al Movimento 5 Stelle, non come partito, non come simbolo, ma come volontà popolare, come unica forza che richiede e chiede soprattutto, oltre che richiedere, chiede la partecipazione democratica di tutti noi. Forza Movimento 5 Stelle, forza cittadini, forza popolo. Viva i movimenti popolari!